Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. La statale 12 della Betone e del Brennero è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo Ammozzano a causa di una frana. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per nebbia banchi sul tratto appenninico tra Pian del Voglio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 3 bis Tiberina a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!